Buongiorno ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Post partita di Fiorentina Juventus terminata 0-0. Diciamo che se non fossi stato un tifoso juventino probabilmente mi sarei addormentato a vedere questa partita. Perché? Perché la Juventus non è mai entrata in partita veramente e non ha mai fatto niente. La Fiorentina ha fatto un ottimo secondo me primo tempo soprattutto, anche all'inizio del secondo tempo non è stato male. Poi ha ovviamente avuto un calo fisico dovuto a altissimi ritmi che ha tenuto nei 60 minuti iniziali diciamo e quindi un pochino si è abbassato il ritmo della Fiorentina. La Juventus come ho detto non ha mai alzato il ritmo e quindi ovviamente non è stata una bella partita assolutamente tanto meno per quel che riguarda la Juventus. Anche un po' sfortunata la Juve se vogliamo vedendo comunque tre sostituzioni e tre per infortunio prima Douglas Costa nei primissimi minuti e credo che comunque sia una sostituzione che ha cambiato le sorti della partita. Douglas Costa è un giocatore che nella sua imprevedibilità e velocità poteva fare molto male. Dopo Pjanic che però vi dirò che Bentancur mi ha piaciuto di più e infine Danilo che è il sessantesimo vai Crampi non mi è capacito di questa cosa ma è entrato Quadrado. Quindi in ottica Champions soprattutto è una cosa molto molto grave molto molto pesante. Però ragazzi insomma la Fiorentina ha secondo me meritato di più. La Fiorentina doveva vincere questa partita. Ha avuto poco cattiveria probabilmente nel cercare di trovare la porta. Se andiamo a guardare effettivamente anche le occasioni di Szczesny, cioè le parate di Szczesny non sono state devastanti. C'è stata una di Chiesa, una su Chiesa, però non hanno avuto tantissime occasioni. Però hanno corso venti volte noi. Ora c'è da fare una premessa secondo me importante. La Fiorentina ha, per quel che ho visto in queste prime tre partite, fatto una preparazione molto leggera. Nel senso che ha un periodo di calendario parecchio difficile ora. Quindi hanno cercato ovviamente di arrivare in questa fase iniziale della stagione con una buona situazione fisica. L'abbiamo visto con Napoli in cui correva come dei dannati, poi hanno perso però hanno corso veramente come dei malati. Col Sassuolo se non sbaglio hanno fatto una buona partita anche da quel punto di vista. E infine con la Juventus oggi hanno dimostrato che fisicamente erano decisamente sopra. Ora è anche assurdo però secondo me che la Juventus oggi abbia avuto così tante difficoltà dal punto di vista fisico. Ma non è solamente oggi. L'abbiamo visto nella prima partita contro il Parma. L'abbiamo visto nella partita contro il Napoli. L'abbiamo visto oggi. Insomma un po' è una situazione che comincia a preoccupare. Perché non puoi durare 60 minuti. A parte che oggi non li hai neanche durati quelli. Però comunque mi prendo per esempio Danilo che al 60esimo aveva i crampi. Non puoi avere i crampi al 60esimo. O hai fatto una preparazione pesantissima. E ti dico, vale, ci può anche stare. Se no sinceramente mi gira un po' il cazzo. Non mi è piaciuto nessuno. Forse Bentancui come detto l'unico leggermente discreto ma ha giocato una parte di partita. Gli altri ragazzi da Ronaldo a Alexandro a Danilo a De Ligt. Non mi sono piaciuti nessuno. Non mi sono piaciuti nessuno. Shesny ogni volta che aveva palla nei piedi era un film horror. Era un film horror ragazzi. Cioè ecco forse questa è stata l'occasione più clamorosa. Quando Shesny prova a rilanciare e becca Chiesa che fra un po' entra la palla in porta. Cioè lì erano veramente madonne lo sapete. Però in qualsiasi caso ragazzi non si può andare avanti così. Abbiamo visto oggi una Juventus più allegriana che mai. Chiamiamola così. Una squadra che a un certo punto vista la capacità fisica della Fiorentina ha detto fermiamoci, chiudiamoci e ripartiamo in contropiede. E quella allora non si arriva al cambio tecnico. Ora io sono perfettamente d'accordo. Adesso non vedete la mia come una critica nella scelta della Juventus. Io sono al 100% d'accordo sulla scelta che è stata fatta da parte della dirigenza della Juventus. Però è anche vero che sono convinto che i risultati di un gioco di Sarri si vedranno a novembre e dicembre. Però quello che è critico è dal punto di vista della tenuta fisica. Che se trovi una squadra che corre di più di te alla fine ti trovi costretta a fare quello che facevi prima. E quindi non mi piace questo. Però come detto i risultati si vedranno. Ne sono certo. Però sono molto molto preoccupato perché la Fiorentina ha già dato del filo a torcere. È un campo difficile, lo sappiamo. È una trasferta molto difficile per la Juventus. È una trasferta che comunque anche a livello morale abbiamo visto durante la settimana che a livello mediatico è stata molto molto caricata per la Fiorentina. Quindi ci sta a trovare delle difficoltà. E ero quasi convinto che la Juventus non riuscisse a vincere oggi. Pensavo però che comunque avrebbe fatto una buona prestazione. Una prestazione che a livello tecnico e tattico sarebbe stata sufficiente. Invece oggi non si è rimostrato assolutamente così. Detto questo ragazzi il video è finito. Io vi invito a mettere mi piace se volete altri video su post partita. Vi invito a scrivermi un po' nei commenti la vostra su questa partita fra Fiorentina e Juventus. Vi invito infine ad iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati su questi tipi di video. Atleta calcistica, fantacalcio, qualsiasi cosa accade nel mondo del calcio. Tutto questo vi ringrazio per la visione. Noi ci vediamo prestissimo in un nuovo video.